Un giorno le spariva il tonno, poi gli affettati, il miele, perfino un costume da bagno e un telecomando. Una 43enne da poche settimane in quilina di un condominio a Tezze sul Brenta, non avendo riscontrato effrazioni alla porta o alle finestre, ha installato una telecamera nascosta per individuare l'intruso. Il responsabile dei furti era un suo vicino di casa, un 52enne del piano di sopra. L'uomo approfittava delle assenze della signora per intorfolarsi in casa e prelevare quanto gli serviva. I carabinieri di Rosà, su mandato della procura, hanno perquisito la sua abitazione recuperando la refurtiva di almeno tre episodi accaduti a luglio. Resta da verificare come l'uomo sia venuto in possesso delle chiavi della donna. Per lui è scattato il deferimento in stato di libertà per furto aggravato e continuato in abitazione.